Simona Ventura, 44 anni, ha sempre avuto un debole per il mondo del calcio, tifosissima del Toro, giornalista sportiva, conduttrice della Domenica Sportiva, superstar di mai dire gol, stella di quelli che è il calcio ed ex moglie del giocatore Stefano Bettarini. Adesso è innamorata di Joan Laporta, 47 anni, presidente del Barcellona campione d'Europa. In Spagna non si parla d'altro e in Italia Novella 2000 lo conferma. Lo stesso Bettarini in un'intervista ha dichiarato che a livello sentimentale Simona parla spagnolo e in più la conduttrice televisiva è ormai di casa a Barcellona e sta seguendo corsi di lingua spagnola. L'incontro Galeotto sarebbe avvenuto quest'estate nel pieno della trattativa tra Barcellona e Inter per lo scambio tra Ibrahimovic e Detò. Grazie per la visione!